Piacenza è la città emiliana dove si è registrato il calo più importante nelle richieste di annullamento di matrimonio al Tribunale Ecclesiastico. Sarà perché ci si sposa meno o perché i coniugi preferiscono chiedere la separazione legale e non vogliono saperne di convolare di nuovo a nozze? Fatto sta che negli ultimi anni le cause di annullamento presentate sono calate. A Piacenza per esempio nel 2012 sono state inoltrate 17 richieste a fronte delle 45 dell'anno precedente. I dati arrivano da Modena dove ieri mattina si è aperto l'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico regionale. Ma quali sono le cause che portano alla richiesta di annullamento di matrimonio in chiesa? Ce le spiega Don Stefano Antonelli, giudice ecclesiastico. È difficile dire da che cosa dipenda. Probabilmente varie cause. Secondo me la più rilevante di queste è la non conoscenza, il non sapere che il proprio matrimonio può essere non valido, cioè contratto con o un'incapacità al consenso oppure con una riserva, per esempio sulla proleo. Una delle conseguenze di questa cultura dominante in cui viviamo è anche il fatto che non si riesca più a vivere l'amore come l'intende la chiesa. E se uno non è capace di amare, di amare l'altro, allora non riesce a vivere la realtà del matrimonio. Se da una parte calano le cause di annullamento, dall'altra aumentano le richieste di separazione in tribunale, i valori della famiglia e del matrimonio sembrano essere sempre più in crisi. Il matrimonio evidentemente purtroppo è, dico purtroppo, è un istituto in crisi e questo è evidente. E lo vediamo anche dal fatto che le procedure di separazione e di divorzio sono invece tantissime. Quindi è evidente che l'istituto è in difficoltà, forse perché c'è meno consapevolezza anche del fatto che un matrimonio, un'unione fondata sul matrimonio, crea una maggiore solidità dell'istituto e quindi forse anche una maggiore protezione dei suoi componenti. Purtroppo la crisi della famiglia, lo sappiamo, è effettivamente molto importante e quindi forse bisognerebbe davvero cercare di valutare percorsi possibili per evitare di arrivare alla frattura familiare, quindi attraverso l'istituto della mediazione, attraverso varie strade, tutte le strade possibili, tutti i modi possibili per effettuare un percorso di confronto, per cercare di superare ciò che è lontana, cercare di ritrovare ciò che è unito.